L'ultimi tre premi. Allora, Bruno deve venire, perché penso che ce ne siano due in particolare. Devi solo le mani, premiamo. Allora, adesso ci sono tre premi, di cui due alla memoria. Uno è dedicato ad un amico di vita che è caratterizzato parecchio quello che è stato di questo intervento e l'applauso alla memoria va ad Umberto Maselli e mi appartengo. Vediamo alla signora Giulia Tenavela che pregna la mente.